Conferiamo a Liliana Segre, nata a Milano il giorno 10 settembre 1930, la laurea magistrale onoris causa in storia e civiltà europee, per essersi coerentemente mostrata portatrice di un grande ideale educativo che si appella alla nostra parte migliore, quella della solidarietà, della giustizia, della pace e della libertà. L'Unibas ha assegnato la laurea magistrale onoris causa in storia e civiltà europee alla senatrice a vita Liliana Segre. Un grande onore per tutta la comunità accademica e un momento che il nostro giovane Ateneo ricorderà a lungo, ha commentato il magnifico rettore che ha consegnato la pergamena a Milano in collegamento con la sede dell'Università di Potenza. Sentiamo uno stralcio del discorso di ringraziamento della senatrice. Sento in questo momento di non essere vissuta in vano. Ringrazio sentitamente per l'onore che l'Università di Basilicata mi fa con la concessione della laurea onoris causa in storia e civiltà europee. Il mio pensiero più sentito va alle ragazze e ai ragazzi dell'Università di Basilicata, quelli che da sempre io chiamo i miei nipoti ideali e a cui è stato dedicato il mio ormai più che decennale, direi trentennale, impegno testimoniale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.